Migliora, sto venendo, vi busso il citofono, va bene? Ci vediamo fra poco, arrivederci. Spesa inviata tramite messaggi WhatsApp è l'alternativa per molti napoletani per restare a casa ed evitare assembramenti nei negozi. Molti negozianti hanno deciso di portare personalmente a casa cibo, acqua e prodotti utili, lasciandoli sul pianerottolo. Anche le farmacie hanno potenziato il servizio a domicilio già presente prima. Intanto mancano le mascherine, molti attendono che i carichi in sosta alla dogana vengano rilasciati per poter soddisfare la richiesta dell'utenza. Noi abbiamo avuto la possibilità di poterne prenotare un quantitativo abnorme per poter dare spazio a tutti i nostri clienti, ma ne abbiamo un camion enorme fermo in dogana e per le problematiche che tutti quanti conosciamo per il momento sono bloccate, quindi per il momento non ci saranno. Speriamo presto. Intanto, mentre i bambini restano a casa e con i loro arcobaleni danno coraggio a tutti, gli anziani sono indisciplinati. Questa mattina i molti erano ai giardinetti e parlavano amabilmente senza le mascherine.